una difesa. L'ha affermato anche da ultimo il segretario generale del garante della privacy che ha chiesto un'innovazione nelle regole di questo settore. Il registro evidentemente non basta. Ora noi sappiamo benissimo che vi è l'esigenza di contemperare appunto la necessità promozionale delle aziende, con il diritto però alla privacy dei cittadini e degli utenti. Ora mi pare che siamo andati ben oltre da questo punto di vista, visto che molti la ritengono una vera e propria persecuzione, si tratta di capire da questo punto di vista qual è l'opinione del Ministero e quali iniziative si intendano intraprendere per porre fine a questa situazione ormai insostenibile. La ringrazio Onorevole Quaranta, Onorevole De Filippo, Dottor De Filippo, a facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Rispetto a quando rappresentato dall'Onorevole interrogante, occorre in via preliminare far presente quanto segue. Il Ministero dello Sviluppo Economico, fin dalla sua istituzione, fa azione di monitoraggio sul funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, con particolare riguardo agli effetti prodotti dal nuovo impianto normativo sulle tutele per i cittadini. L'istituzione del registro è stata necessaria per adempiere pienamente alle direttive europee sul tema della protezione dei dati personali e chiudere un procedimento di infrazione europea per l'utilizzo improprio delle numerazioni estratte dagli elenchi telefonici pubblici. In seguito all'attivazione del servizio, i cittadini la cui numerazione è inserita negli elenchi telefonici pubblici, iscrivendosi al registro, possono ricevere esclusivamente le chiamate promozionali che hanno autorizzato in precedenza. È noto che l'attuale sistema, basato sul cosiddetto option out, è una forma di tutela verso le sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, pari a poco più di 10 milioni, mentre non protegge la totalità delle numerazioni attualmente attive in Italia, che sono superiori a 100 milioni. Per queste ultime vigono comunque le tutele previste dal Decreto legislativo 196-2003, che è il cosiddetto codice della privacy, secondo il quale le numerazioni riservate possono essere condattate tramite telefono per finalità di telemarketing solo previo un consenso esplicito. Il Ministero del Sviluppo Economico è certamente a conoscenza della mentele di numerosi utenti e delle stesse associazioni dei consumatori, in merito alla crescente invadenza delle comunicazioni telefoniche o promozionali e dalla circostanza che l'attuale impostazione del registro delle opposizioni non consente di contestare violazioni alle imprese che utilizzano tali modalità di comunicazione nei confronti di utenti che, pur iscritti nel registro, non abbiano avuto cura di revocare tutti i consensi espressi in altra sede o, in altro modo, all'utilizzo del medesimo dato. Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il mancato rispetto della normativa da parte di alcuni operatori di telemarketing, questo va sicuramente stigmatizzato anche attraverso l'azione svolta dal Garante per la protezione dei dati personali che negli ultimi cinque anni ha contrastato i comportamenti illeciti con attività ispettive e anche sanzionatorie. Allo stesso tempo è doveroso evidenziare che il dato relativo alle segnalazioni ricevute dall'autorità potrebbe non essere del tutto rappresentativo del fenomeno, in quanto non identifica le effettive violazioni constatate, bensì si basa sulle sole denunce fatte dai cittadini, i quali molto spesso hanno fornito in altre sedi consensi al telemarketing o al teleselling anche in maniera certe volte inconsapevole. L'estensione del registro pubblico delle opposizioni anche alle innumerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici è attualmente argomento in discussione al Senato nell'ambito dell'approvazione del disegno di leggi per il mercato e la concorrenza. Ove questa modifica fosse approvata, tutti i cittadini, siano essi detentori di un numero pubblico o di un numero privato, potrebbero con facilità opporsi al trattamento dei propri dati personali iscrivendosi al registro pubblico delle opposizioni senza doversi far carico dell'esercizio del diritto di opposizione verso i singoli soggetti che detengono i loro dati. In conclusione, si conferma in questa sede la disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico ad un approfondimento della specifica disciplina di settore al fine di migliorare la tutela dei consumatori e contrastare i comportamenti che violano le norme vigenti in materia, confrontandosi anche e inoltre con l'autorità del garante per la privacy, anche con l'autorità garante della concorrenza del mercato e con le singole autorità di regolazione settoriali. Grazie. La ringrazio. Onorevole 40. Facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie. Grazie Presidente. Ringrazio il Sottosegretario nel senso che mi pare che condividiamo l'idea che la situazione attuale non regga e occorra un intervento di carattere legislativo. D'altra parte ormai le associazioni si stanno auto-organizzando in attesa appunto di una risposta della politica. Sono partite petizioni che...